Soraya Ceruti e Luca Salatino addio, l'accusa l'ex L hai lasciato per avere successo lei risponde così Soraya Ceruti è stata più volte attaccata dopo la fine della relazione con Luca Salatino L'ex di uomini e donne è stata accusata di aver tradito il compagno, di averlo usato solo per il successo e di non averlo mai amato realmente Accuse dalle quali ha provato a difendersi, per poi chiudersi nel silenzio e chiedendo a tutti di rispettare quello che per lei è un momento molto difficile Vladimir Luxuria, Cristina Scuccia dirà i veri motivi per cui ha lasciato il velo Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano, ancora uno scontro ad amici, l'alite dopo il giudizio su Mattia La Ceruti ha fatto una diretta social con uno psicologo Il tema della diretta sono stati i problemi di coppia Come comportarsi dopo la fine di una relazione d'amore e se possono esserci dei margini per recuperare un rapporto in base a come sono andate le cose L'esperto ha risposto diverse domande, ma tra queste ne è spuntata qualcuna insidiosa Al professionista è stato chiesto, e se nella coppia la donna lascia l'uomo perché voleva fare solo successo come si rimedia Soraya ride, capendo la frecciatina che le è stata mandata in relazione alla fine della sua storia con Luca Salatino e replica Non è assolutamente vero Anche perché successo in che senso? Il successo si può fare anche in coppia, ha detto Ancora un'accusa per l'ex corteggiatrice, che non ha ancora rivelato i motivi del suo addio con Salatino